Iniziamo dal risultato, risultato giusto Scott eh? Ma penso che abbiamo concesso un cross e mezzo in tutta la partita, ne abbiamo fatti tanti ovviamente l'occasione finale porta un po' di rammarico e quindi portiamo a casa appunto un po' di non soddisfazione Ecco oggi rispetto alle altre partite Mato l'ho riuscito a creare diverse occasioni da rete Sì, penso di sì, penso che forse è la partita dove abbiamo creato di più Penso che nelle ultime due o tre partite sicuramente tutto è il sottilo Tutta questa e un po' di Trieste, l'attitudine è stata quella impeccabile Quindi dobbiamo continuare a lavorare e ovviamente la classifica non ci piace Però l'unica cosa che possiamo fare è quella Che umore c'è nello spogliatoio? L'umore è quello di una squadra che ci sta provando in tutti i modi Penso che in settimana andiamo forte Ci dite pure voi che ci guardate quindi penso che potete confermarlo La squadra si allena bene al massimo e quindi la strada è questa Poi sicuramente non siamo soddisfatti dei risultati, questo sicuramente